Altro giro, altra corsa in casa Virtus Franca Villa con il Covid che ha preso il sopravvento e le 7 positività registrate nel periodo natalizio. Sono stati effettuati nella giornata di ieri nuovi tamponi di controllo. L'obiettivo è capire se il numero di contagi si sia abbassato o meno con gli allenamenti che andranno avanti eventualmente con i lavori individuali. In aiuto della Virtus Franca Villa c'è questa lunga sosta dovuta al rinvio della seconda giornata di ritorno. I biancazzurri ripartiranno il 16 gennaio dal derby contro la Fidelisandria, mentre recupereranno la sfida contro la Vibonese nei primissimi giorni di febbraio, salvo altri rinvi che purtroppo potrebbero essere decisi. Intanto i biancazzurri si muovono anche per quanto riguarda il calciomercato. Prima delle entrate servono delle uscite e alcuni giovani potrebbero partire per cercare miglior fortuna e soprattutto minutaggio, specialmente per quanto riguarda classe 2002. Un discorso che riguarda la vicina, ad esempio Andrea Feltrin, giovane cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ma che biancazzurro ha trovato spazio soltanto in una spezione di gara nel secondo turno di Coppa Italia DC sul campo della file di Sandria. Possibile presido anche per l'esterno destro Nicolás Magnavita, subentrato in tre occasioni durante il campionato e sceso in campo per quasi totalità del match, sempre contro la Fidelis, oltre anche ad Andrea Sarcinella e da Pupacar da Costa.